Cosa conterrà il gif set di l'Orkana? A quale pubblico di appassionati farà riferimento e converrà acquistarlo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'Orkana ha finalmente fatto la sua comparsa e da questo agosto diversi sono stati prodotti commercializzati. Tra questi, anche il gif set. L'articolo in questione, devo dirvi la verità, me lo aspettavo più piccolo in fatto di dimensioni e devo ammetterlo. Non mi è dispiaciuto trovarlo così massiccio, soprattutto perché si nota se è esposto su uno scaffale, ma sto parlando per puro gusto personale. Le domande però che potrebbero sorgere spontanee potrebbero essere altre e altre, soprattutto per chi è ancora indeciso sul da farsi. Cosa contiene questo prodotto? Quali saranno le differenze rispetto ai tradizionali deck precostruiti o un box da 24 bustine? Sarà proprio in questo video che ne parleremo esplorando a fondo ogni singolo aspetto del set. Non so se è successo anche a voi, ma personalmente l'articolo qui presente è arrivato leggermente scollato sulla parte laterale della scatola, evidenziando una qualità della colla piuttosto scadente, ma magari sono stato l'unico che ha riscontrato questa pecca e quindi va bene così, tanto dovevo comunque aprirlo per mostrarvelo nel video odierno. Chiusure a parte quindi, concentriamoci su cosa riserverà il gift, valutando infine se converrà acquistarlo e quali saranno le esigenze che esso soddisferà. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa conterrà il gift set targato l'Orcana. Andiamo a dargli un'occhiata. Il prodotto si presenterà con finiture foil lungo tutta la scatola, raffigurando il contenuto dello stesso nella parte frontale, solo il marchio della casa distributrice sul fianco destro, mantenendo inalterata la trama del prodotto su quello sinistro, tutto ciò che potrete trovarci all'interno, mostrato in chiaro sulla parte dorsale, assieme ad una breve presentazione e la lista degli elementi presenti nell'articolo, e le informazioni legali del caso descritte a fondo scatola. Al suo interno troverete le due carte con finitura foil di Mulan Imperial Soldier e Ader Re dell'Olimpo, con le rispettive carte di formato oversize che potranno arricchire ancora di più la vostra raccolta personale, 32 token danno, due segnalor dedicati ai personaggi protagonisti del set, e quattro buste di espansione che vi potranno tornare utili per potenziare i deck che intenderete impiegare in battaglia. Bene, ora che abbiamo avuto una panoramica completa della confezione e di cosa conterrà, passiamo a qualche considerazione da tenere bene a mente prima di procedere all'acquisto. A chi si rivolgerà maggiormente questo prodotto? Di certo ai collezionisti, che con il set avranno quell'articolo che conterrà un assortimento vario di elementi che si sposerà alla perfezione con le esigenze di questa categoria di appassionati, a differenza dei giocatori, che invece non troveranno poi così tanto materiale per iniziare a giocare immediatamente, a differenza del box da 24 bustine e i 3 starter. Infatti i 4 booster pack, le due carte foil reperibili praticamente in ogni dove e le oversize a contornare il tutto, non faranno del gift un boccone appetitoso per tutti coloro che vorranno vestire i panni degli Illuminers, piuttosto che arricchire la propria raccolta personale. E a proposito di esclusive trovabili unicamente in questo prodotto, oltre alle oversize ci saranno anche, come già mostrato, i due segnapunti dedicati ai personaggi protagonisti raffigurati sulla parte frontale della scatola, e i token danno meno 5, che non potranno essere reperiti in alcun dove se non proprio all'interno dell'articolo in questione. Ma sono davvero necessari questi segnalini, Arconte? No, per due motivi. Saranno facilmente rimpiazzabili utilizzando una qualsiasi combinazione di altri token presenti negli starter, e perché ce ne saranno solamente 6 all'interno del set, quindi valutate infine se vi converrà o meno procedere all'acquisto se vorrete principalmente giocare a questo TCG targato Disney. Il gift set verrà venduto ad un prezzo indicativo di 30€. Al suo interno potrete trovare due carte foil raffiguranti Ade, re dell'Olimpo e Mulanna, soldato imperiale, con le rispettive versioni oversize. 32 token danno, 2 segnalor tematici e 4 booster pack, che potranno arricchire sia la vostra raccolta personale se sarete collezionisti, sia potenziare il deck se vorrete volgere l'attenzione verso il lato competitivo. Ora, rispondendo alla domanda, conviene acquistarlo? Le risposte saranno 2. Assolutamente sì se sarete dei collezionisti, altrimenti no, dato che il contenuto di questo scatolone non risponderà alle esigenze di tutti coloro che vorranno stringere tra le mani un prodotto ready to play. Prima di concludere volevo ringraziare ancora una volta Fantasia Store per aver messo a disposizione l'articolo che abbiamo trattato in questo contenuto. E a proposito di ciò, in descrizione vi lascerò il link dove potrete acquistarlo. Il gift set di certo rientrerà comunque nella fascia must have, dato che attualmente i prezzi si sono leggermente alzati e da quel che vedo inizieranno a scarseggiare il mercato, segnale che con il tempo diverranno sempre più elitari, proprio come i Trove. Quindi se ne avrete la possibilità tenetelo d'occhio, soprattutto se sarete interessati ad un articolo che potrà fungere anche come eventuale fonte di investimento in previsione di una rivendita futura. E voi avete già ottenuto la vostra copia personale? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.